Il capo del Colorado USA è Monserice Evanguaria Volley! Il nome e il cognome è tipicamente italiano, Ollandini Ali. E' il sesto mese dell'incontro per Maia Chievo Chievo. E' il sesto mese dell'incontro per il quindicesimo gruppo. Il campi esce dal numero 4, Chepard Williams, il numero 7 è il 55.